Due colleghi di partito si invitano reciprocamente a colazione. Il primo va a trovare il secondo, all'aeroporto lo va a prendere un'auto blu. Mentre la macchina entra nel parco, questo politico vede sulla sinistra un campo da tennis, sulla destra un campo da calcetto e in fondo alla villa, prima dell'ingresso principale, una piscina da 25 metri. Arriva il collega, baci e abbracci, vanno a mangiare, pranzo e tutto, sul caffè, il collega gli dice, beh, senti, tra di noi queste cose ce le possiamo dire, qui non è mica farina del tuo sacco, no? Com'è che hai fatto? E ti ricordi due anni fa che dovevamo costruire la tangenziale, poi abbiamo bloccato i lavori, beh, poi i preventivi ovviamente sono cresciuti. Quando abbiamo ripreso i lavori abbiamo speso lo stesso, tutto il resto è qua. Un mese dopo il collega va a casa dell'altro, anche lì aeroporto, auto blu. Quest'altro politico vede sulla sinistra quattro campi da tennis, sulla destra un campo da calcio regolamentare e prima dell'ingresso della villa una piscina olimpionica da 50 metri e una piscina per bambini. Alla fine Cognacchino, Sigaro, dice, beh, adesso mi devi dire tu, perché anche qua non è farina del tuo sacco. Però gli dice, guarda là, là dove scusa? Là, l'autostrada. Senti, quale autostrada? Io non vedo mica niente. Appunto! Appunto!